Credo che sia spontaneo, credo che sia naturale, fa porsi una domanda, non è detto che si possa dare una risposta, però almeno proviamoci, dottoressa Bruzzone, questo ragazzino e l'attività investigativa dei Carabinieri si basa anche su, è concentrata anche su questo, può aver davvero pensato a tavolino, adesso vado sotto casa di Anna, chiamiamola così, la aspetto, poi la porto nel terrazzo, al settimo, ottavo piano, dove di solito ci incontriamo e poi la butto di sotto, cioè può aver premeditato un'azione del genere? A mio parere sì, e visto il tipo di personalità che sta emergendo, ritengo che questo purtroppo sia lo scenario da privilegiare. Quindi dalle chat, dalle telefonate, dai messaggi che i due ragazzini si sono scambiati, potrebbe emergere poi la verità su questo aspetto che non è proprio marginale? Verosimilmente il seguente scenario, cioè che lei in qualche modo si fosse mostrata più determinata questa volta a interrompere la relazione, sulla scorta anche di una serie di testimonianze che sono già emerse, e che lui, proprio perché questo tipo di possibilità evidentemente a lei non voleva assolutamente riconoscerla, l'abbia attesa sotto casa, attirata in trappola e uccisa proprio preordinatamente, cioè premeditatamente, anzi usiamo la parola corretta, per punirla della decisione di interrompere la relazione con lui in maniera definitiva. Soggetti in questione mi pare molto, molto incline a una progettazione di questo tipo. Allora, c'è che una volta era riservata, diciamo, dottoressa Bruzzone. Il problema grosso è che dovremmo superarlo, questo convincimento, perché è alquanto fuoriante, cioè se abbiamo a che fare con soggetti che sviluppano personalità profondamente malevole e distorte, e francamente qui mi pare che possa ipotizzarlo fondatamente, di trovarci dinanzi a un soggetto che già in epoca precedente aveva ampiamente dimostrato una propensione alla manipolazione, allo sfruttamento psicologico dell'altro, a una condizione di assoggettamento e di prevalicazione piuttosto consolidati, ma quello non è un ragazzo, quello è un soggetto con una personalità malevola, strutturata, cristallizzata e quindi perfettamente in grado di fare cose terribili anche in un'età inferiore a quella attuale. Chissà cosa ha combinato prima, senza arrivare a questo tipo di gravità, ma chissà quanto male ha fatto a tutti quelli, a tutte quelle che gli sono gravitate intorno, perché ho sentito anche dei racconti di altre ragazze che hanno avuto a che fare con lui e se la sono passata veramente male, arrivando anche a tutta una serie di vessazioni veramente inquietanti, quindi evidentemente il problema non è l'età, il problema è il tipo di personalità, perché se questo tipo di personalità si incardina, ti assicuro che il parametro età diventa poco significativo, sono in grado di fare danni tremendi anche in un'età inferiore a quella di questo ragazzo. Quelle riferite al primo neonato, al primo bambino che nasce, che lei dice nasce morto e l'avrebbe partorito nella sua stanza, quindi i rischi cosa fanno? Tornano e vanno a cercare la verità attraverso indizi, attraverso prove, dottoressa Bruzzone, che ci spiegavano ancora oggi che anche a distanza di anni una prova può essere, se cercata correttamente, trovata. Il sangue è molto persistente, se ci sono determinate condizioni e diciamo le tracce sono esigue, ma magari apparentemente non visibili, ma ci sono ancora, bastano veramente pochissimi piecogrammi di materiale per poter fare un esame genetico assolutamente soddisfacente e questa credo sia la speranza che li ha portati a fare questa ricerca così approfondita con l'ausilio soprattutto di Luminor, quindi di una sostanza, di un prodotto che è in grado di rilevare, cioè di far emergere tracce dilavate o diluite in maniera significativa, certamente non visibili a occhio nudo. Credo che stiano cercando di capire se quello che sta riferendo lei, se non altro in chiave diciamo generale, possa trovare degli scontri. È difficilissimo lavare via il sangue in maniera definitiva, ci sono pochi metodi che garantiscono questo e non ho alcuna intenzione di riferirli in questa sede, onde evitare diciamo di suggestionare magari qualche mente particolarmente stabile, però è difficilissimo ripulire il sangue in maniera definitiva, questo tipo di ricerca secondo me darà buoni frutti. Non era una battuta, dovrà essere contenuto per il bene anche di noi, di noi altri, non solo il suo, perché la dimostrazione, ma la dottoressa Bruzzone l'aveva detto sin dall'inizio, che era una persona totalmente avulsa dal contesto reale. I periti del GIP sono pervenuti alla nostra identica conclusione, l'avevamo già esaminato il signor Barreca sollecitando questo accertamento perché a nostro modo di vedere c'era un disturbo delirante cronico di matrice religioso mistica che lo accompagna, esatto, in stato florido che lo accompagna da moltissimi anni e la condizione è emersa in maniera pacifica dinanzi ai periti durante la consulenza che abbiamo esplettato e quindi insomma è chiaro che è stata riconosciuta anche la sua pericolosità sociale, non tanto intrinseca, nel senso che lui da solo non ha mai dato segnali di aggressività o violenza negli anni che pur avevano chiaramente a che fare col suo delirio, perché lui è affetto da questo delirio verosimilmente da almeno 15 anni rispetto ai fatti, documentalmente. Però il problema è laddove venisse in contatto con soggetti come i coindagati in questa vicenda in grado di innescare chiaramente una situazione approfittando di una condizione chiaramente delirante del Barreca, questa è la dimensione pericolosa socialmente e quindi giustamente è stata prevista una misura di sicurezza che dovrà essere esplettata in una remsa. Al momento il signor Barreca è ancora in carcere perché stiamo cercando di capire qual è la struttura idonea secondo il Tribunale, al momento sarà una comunità terapeutica in attesa che si liberi un posto in rems chiaramente in tutto il territorio nazionale per poter garantire chiaramente le cure di cui lui ha bisogno ma anche naturalmente una condizione naturalmente di controllo rispetto al signor Barreca. Allora e resta completamente aperta la posizione invece di Massimo Fina, di Sabrina Fina e Massimo Carandente perché se Barreca è incapace di intendere e volere la ragazzina che è minorenne e quindi non va assolutamente nominata in nessun modo, si avvia ad un percorso ma credo anche dottoressa Bruzzone e poi dottoressa Viola ma vi sento subito tutti, credo che anche per la ragazzina si prefiguri un percorso. Sì, a quanto abbiamo capito ci sarà una valutazione anche nel suo caso di tipo psichiatrico forense, almeno questa è la notizia che ci è giunta, poi non l'abbiamo ancora avuto un modo di conferma perché chiaramente il suo è un procedimento avulso da quello principale diciamo che appunto riguardava Barreca e gli altri due coindagati, quindi immaginiamo comunque che possa essere una notizia affidabile quella che abbiamo ricevuto e che quindi ci sarà un'indagine che la riguardi sotto il profilo psichiatrico forense oltre che della maturità generale, quindi vedremo che tipo di esito avrà questo accertamento. Indubbiamente la figura degli altri due coindagati che sono a quanto risulterebbe del tutto avursi da problematiche psichiatriche a questo punto si complica ulteriormente. Dottoressa Bruzzone, cosa può essere accaduto? Perché la procura sequestra ancora e rifà le stesse analisi? Cosa può essere accaduto? La parola irrituale devo dire è abbastanza sconcertante, no oltre che irrituale è sconcertante non la troviamo in questo tipo di atti normalmente, c'è stata un'attività di prelievo tecnico normalmente questa deve seguire determinati standard e regole che sono ampiamente documentate dalle linee guida internazionali che assolutamente rispetta per quanto è di mia conoscenza e quindi questa irritualità del precedente prelievo bisognerà certamente chiarirla. la sede dell'incidente probatorio probabilmente la sede è corretta perché a quel punto tutto quello che è accaduto e quindi esistono dei precedenti prelievi mi pare di capire e che sarebbero stati in qualche modo acquisiti in maniera irrituale, ecco questo irrituale però deve essere un po' contestualizzato, che cosa è stato irrituale, il prelievo, la modalità con cui è avvenuto, la conservazione, cioè che cosa è, l'irritualità cosa riguarda? Tutta la catena, perché se riguarda tutta la catena di custodia a partire dal momento della repertazione, quella roba lì è possibile che la prendi e la butti sotto profilo tecnico. Allora, dottoressa Buzzone, a proposito di miracoli, poi subito in diretta con la nostra Nicole Di Giulio. Stavolta l'intervista è un po' più strutturata perché lui fa un riferimento anche a quello che avrebbe riferito in quest'ora, quindi ossia che dinanzi a, diciamo, l'essere messo davanti a una serie di immagini di giornate diverse, lui si riconosce esclusivamente in quella che stiamo osservando, cioè il passaggio sotto la CAM 3 alle 22.17 circa del soggetto ignoto che secondo la Procura e secondo il Gipro invece sarebbe il da Silva. Oggi però ce lo dice in maniera molto più chiara e sostiene anche di averlo detto in quest'ora. Ecco, questo forse è il passaggio più significativo perché dà indiscrezioni stampa perché noi quella SIT non ce l'abbiamo ancora, quindi non sappiamo cosa abbia riferito in quella circostanza specifica, però alcune notizie, diciamo, divulgate a livello mediatico, da fonti apparentemente accreditate, davano per certo che lui non si fosse riconosciuto in quest'ora dinanzi a questo tipo di sollecitazioni. Oggi apprendiamo che in realtà avrebbe fatto questo tipo di affermazione anche in quella sede, che se permettete è un passaggio veramente interessante. Che sulla base della tua giusta osservazione direi però andiamo per gradi. Allora, dottoressa Luzzone, un incidente probatorio che dovrebbe vedere Luis e Neri transitare, fare questo percorso. Accetterebbe Luis di fare una cosa del genere? Ma lui si è reso disponibile a patto che chiaramente ci siano le condizioni di una comparazione affidabile rispetto al 3 ottobre. Impossibile. Ed è quello che stiamo valutando perché abbiamo chiesto un'integrazione di documentazione chiaramente alla procura per poter fare delle nostre osservazioni tramite chiaramente il consulente a cui ci siamo affidati su questo specifico ambito, perché ci ha dato delle indicazioni precise sostenendo che effettivamente ci sono delle vulnerabilità su questo tipo di valutazioni. Lo stesso consulente della procura, peraltro, che ha firmato la consulenza tecnica iniziale che in qualche modo inchioderebbe da Silva, si è mostrato estremamente scettico sulla possibilità di valutare dimensionalmente il soggetto che passa e anche sotto profilo posturale. Peraltro le immagini mostrate mentre il signor Neri cammina, diciamo posteriormente, è stato ripreso da alcuni giornalisti, si conciliano peraltro con il movimento che stiamo osservando. Per cui il problema grosso non è tanto la disponibilità di da Silva, ma è capire se questo tipo di consulenza abbia un senso dal punto di vista scientifico di validità, cioè se si è in grado effettivamente di fornirci le informazioni che il GIP vuole avere nella disponibilità a fronte di un Neri che oggi ci dice sono io al mille per mille. Quindi abbiamo questo racconto, no, dottoressa Bruzzone, in cui per la prima volta nel senso abituati a dire sì che tra Manuela e Pierina ancora è la buonsangue, abbiamo la narrazione di una Manuela innamorata di Pierina, no, che la vede come la mamma che ha appena perso, le fa dei regali, è premurosa, cerca di starle vicino e dall'altra parte trova un muro, no, un muro contro cui si infrangono tutti i suoi sogni di essere felice, no, con la nuora, con la suocera, con... Questo è quello che racconta lui rispetto a quello che chiaramente gli avrebbe riferito Manuela e chiaramente il rapporto tra Manuela e Pierina era ormai in quell'epoca ampiamente compromesso e l'incidente di Giuliano aveva fatto ulteriormente precipitare, diciamo, la qualità del rapporto tra le due donne e aveva creato ulteriori fronti di contrasto, quindi, diciamo, i mesi immediatamente precedenti al delitto di Pierina sono anche mesi in cui comunque la relazione tra Manuela e Pierina diventa sempre più difficile. L'ipotesi della procura, attenzione, la procura pensa a questo sostanzialmente, però sentiamo la dottoressa Bruzzone. Però, allora, primo punto, quello che racconta da Silva in quella circostanza è stimolato da domande del magistrato che vuole capire bene il tipo di relazione che c'è tra i due e da Silva risponde comunicando quello che era stato riferito dalla Bianchi. Attenzione, nei messaggi che la Bianchi manda anche a Valeria, di cui la stessa Bianchi si preoccupa enormemente per non essere riuscita a farli cancellare in tempo proprio a ridosso dell'omicidio ed è una circostanza ampiamente documentata in atti, c'è un ampio riscontro di quello che lui sta raccontando. Quindi non è qualcosa che dice semplicemente lui in maniera così, diciamo, spontanea. È qualcosa che chiaramente viene chiesto e di approfondire e lui a quel punto fa una serie di riferimenti a informazioni che riceveva e che trovano riscontro anche dalla stessa voce della signora Bianchi inviati a Valeria. Quindi che ci fosse una relazione, diciamo, difficile è chiaro e che Manuela si lamentasse di pressioni, di trattamenti non esattamente benevoli. Ma si lamentava con Valeria, tra l'altro. Anche con Valeria, ma non soltanto con Luis. Certo, all'inizio.